Cosa significa per voi, a livello personale e professionale, vivere in questa condizione di precarietà, senza la stabilità di un'assunzione a tempo indeterminato? Come influisce sulla vostra vita quotidiana, sulla vostra serenità, sulla vostra possibilità di progettare il futuro? I progetti sono molto difficili, pensare al futuro è molto complicato perché se siamo fortunati cambiamo scuola ogni anno, se siamo sfortunati cambiamo scuola ogni pochi mesi, ogni poche settimane e quindi il progetto per il futuro diventa anche un futuro a brevissimo termine, cioè da qui a due settimane sarò nella stessa scuola che si trova a X chilometri da casa oppure sarò in un'altra scuola a moltissimi chilometri più lontani da casa. Se siamo un pochino più fortunati con un contratto annuale è diverso, però le situazioni sono molto variabili, non c'è una certezza.